Konnichiwa a tutti e ben ritrovati in un nuovo episodio in pillole di Into the 4K oggi parliamo del film del 1998 di Godzilla regia di Roland Emmerich film che vidi anche al cinema comprai mi ricordo la cassetta della Columbia con scritto dietro 2.35.1 o l'avevo comprato full screen no era già 2.35.1 perché la Sony Columbia faceva le videocassette le lasciava normalmente nel loro formato originale c'era sempre scritto dietro formato panoramico 1.85.2.35 insomma già lì mi godevo il widescreen sul mio 14 pollici che era grande così comunque Roland Emmerich esperto di film catastrofici e ragazzi me lo sono visto ieri sera questa è la versione steelbook con grading Dolby Vision io avevo già comprato Godzilla nella versione 4K sono gli stessi dischi stessi extra stesso audio c'è solo il grading in Dolby Vision qui e avevo iniziato a vederlo e non perché non mi piacesse ma non vi ricordo perché avevo visto la parte iniziale poi non l'avevo mai più finito quindi l'ho rivisto di nuovo da capo in 4K ieri sera insomma anni fa ho provato a vederlo poi vabbè l'ho venduta mi sono comprato questa lo sapete voglio tutte le Sony in steelbook con Dolby Vision ma solo perché il Dolby Vision non perché la steelbook e regge ancora o ragazzi io dirò una bestemmia per molti di voi ma lo so è un insulto per i film vecchi di Godzilla giapponesi è un'america nata io lo so lo capisco lo comprendo per un fan dei film di Godzilla questo film è abbastanza un insulto per chi ama quelli giapponesi ma ragazzi secondo me regge e lo spettacolo che alla fine vai al cinema ti guardi lo spettacolo la distruzione gli effetti sonori cioè il divertimento per due ore passa di film qua c'è c'è la parte finale poi c'è un'altra parte poi pensi che sia finito il film e c'è tutta ancora la parte finale ragazzi mi ha divertito ci sono delle inquadrature che secondo me sono più belle qua che nei nuovi film di Godzilla Godzilla sembra videogioco King Kong bam ma invece quando c'è il mostro c'è proprio le inquadrature studiate per esaltare il mostro cioè siete lì con il mostro poi il film è quello che è ma c'è Jean Reno che a me piace un sacco Jean Reno e per me regge ancora oggi e la cosa più importante non mi ha annoiato e mi sono divertito e come era il lato video di questo disco allora l'HDR è bello sono belli colori nonostante non ci siano colori spintissimi c'è sempre un'atmosfera abbastanza scura ci sono molte riprese di notte ma fatto sta che rispetto al disco 1080p che c'è qui all'interno che non proveniva da Master 4k poiché questo è il disco vecchio nel blu ray 1080p era la prima versione questa che poi è riuscita per esempio in America da Master in 4k ma senza extra e da noi non è mai uscita quindi questa è la versione vecchia del 1080p il salto c'è cazzarola se c'è ma devo dire che anche questo vecchio 1080p regge ancora oggi se volete solo guardarvi il film il film non ha effetti dnr edge enhancement non ha niente quindi se volete rivederlo in 1080p riscoprite il vostro vecchio 1080p perché va bene ma in cosa vince il nuovo 4k? sicuramente quei colori sono più pimpanti nonostante ci siano poche scene di giorno c'è quella hawaiiana all'inizio sì il manto erboso è più bello in 4k e anche il micro dettaglio dove già nel vecchio 1080p dici cazzarola per essere un vecchio 1080p del 2009-2008 cazzarola regge bene e poi lo riguarda in 4k quella scena e dici ok c'è ancora di più da tirare fuori dall'immagine però è più micro dettagliata i primi piani ma anche gli sfondi sono bellissimi della città quando ci sono tutte le macchine i taxi parcheggiati con tutte le goccioline di pioggia sopra è una meraviglia è una meraviglia fatto sta che ci sono tantissime scene con effetti in computer che sono molto più morbide quando c'è una transazione da un'immagine all'altra analogica si vede il calo di qualità non tutte le scene con Godzilla e non tutte ma molte scene con Godzilla si vede che c'è un calo di qualità nella pellicola perché non era il negativo originale per le particle computer sono state fatte dopo stampate eccetera 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 lì la qualità cala di poco di poco quando c'è Godzilla comunque le beccate subito ma la grana è finissima veramente veramente finissima ma in quelle scene un po' più evidente e morbida però il video vale in 4k vale assai ma che cosa è che vale è il remix atmos inglese all'interno c'è la DTS HD Master Audio 5.1 sta per arrivare un Godzilla mi sa se sale sulla scrivania c'è un Godzilla no si sta facendo i cacchi suoi Genji c'è la DTS HD Master Audio 5.1 è sempre la stessa traccia vecchia che c'era già nel 1080p traccia va benissimo ragazzi vi divertirete mi sono risentito un sacco di scene di quando arriva Godzilla e fa il bordello perché quando fa il bordello è bellissimo va benissimo bassi subwoofer surround ce n'è ma se proverete la traccia Atmos inglese è uno spettacolo cioè quando dico nelle recensioni ma si c'è un effetto distintivo da sopra forse l'ho sentito forse non l'ho sentito e perché proprio non si sente o se c'è è proprio difficile da sentire qua di roba da sopra ce n'è a go go quindi questo è un mix come piace a noi in inglese stra divertente la scena della nave iniziale quando arriva Godzilla e la mangia con la pioggia fuori il temporale ma anche quando arriva in città ci sono macchine che volano da sopra quando passa Godzilla c'è lui passa ancora la coda spettacolo gli elicotteri i missili la parte allo stadio alla fine ragazzi è divertentissimo il mix Atmos alzate il volume è un film del 1998 un mix vecchio ma è molto molto più divertente di tanti film di oggi cioè io dei film di oggi ma anche della Marvel io voglio questi affetti cioè perché non è divertente come un film così non si capisce non si capisce ragazzi stra divertente ma se avete il vecchio disco 4k senza Dolby Vision stessi extra manca il grading Dolby Vision stesso audio per tutto stesso uguale quindi anche stessa tracciata se ce l'avete già a casa o lo trovate a meno perché non volete spendere 30 euro per una steelbook ma vi ricordo che a GameStop l'ho pagata 9 quindi tenetevi la vecchia o cercate la vecchia senza Dolby Vision lato extra ragazzi sono gli stessi extra della vecchia versione 4k quindi nel 4k ci sono tre trailer tra cui il vecchio del museo dove arriva la zampa di Godzilla spacca il Tyrannosaurus Rex perché in quel periodo era anche uscito Jurassic Park 2 e esce fuori dal museo il pre trailer di lancio e poi nel disco 1080p è lo stesso vecchio disco 1080p nostro con un commento del visual effect supervisor trailer piccolo dietro le quinte vari trailer di Roland Emmerich 2012 altri film e anche un video musicale del film ma non c'era quello di Jamie Roquei a me piaceva I'm going deeper on the ground a me piaceva un sacco sta canzone l'avevo registrata da MTV il video musicale me l'ero messo sulla musicassetta per sentirmelo sul Walkman ai tempi ho fatto l'MP3 no andavo ancora di videocassetta ai tempi nel 99 sì e quello non c'è però ragazzi se vi piace Godzilla o volete godere di audio per due ore passa cioè ho l'impianto e voglio farlo sentire agli amici Godzilla remix Atmos ma anche italiano nostro e anche italiano nostro va benissimo un po' più cupo sì forse meno canali ovviamente anche sotto 5 invece di 7 però l'Atmos è divertente bello bello e sono gli effetti che voglio tanti effetti così anche da effetti da film nuovi così deve essere ma chiudiamo questa recensione in pillole dedicata a Godzilla di Roland Emmerich del 1998 e noi ci rivediamo in un prossimo video di Into the 4K quindi sayonara a tutti e bye bye Grazie a tutti